Questo algoritmo è un algoritmo ciclico che legge un numero dall'input standard e lo produce in output fino a quando l'utente inserisce valori diversi da 0, questi vengono letti dall'input, acquisiti in input e prodotti in output. Quindi è una cosa semplicissima. Quando l'utente inserisce 0 ci fermiamo e l'unico dato che abbiamo è la variabile che contiene il numero letto dall'input standard. Allora qua scrivo numero come variabile, una variabile di input e tipo, qua non è importanza, mettiamo intero, scriviamo l'algoritmo ricordando che queste sono le due tipologie di ciclo per adesso che vediamo, quindi il ciclo con condizioni in testa e il ciclo con condizioni in coda. Allora iniziamo a prendere in esame questo, la vedete questa struttura, qui abbiamo una condizione e poi abbiamo delle istruzioni e poi una linea che torna su per vero e una linea che ci porta fuori dal ciclo per falso. La lettura di questo dato di input va messo nel ciclo o fuori dal ciclo? Evidentemente va messo sia fuori dal ciclo sia dentro il ciclo. Perché? Vado a disegnare la struttura ciclica, poi la colleghiamo. Allora qui la condizione quale deve essere? Quindi continuo se il numero è diverso da 0. Molto bene. Dunque se questa condizione è vera, se vale true, dobbiamo andare a eseguire le istruzioni del ciclo. Quando la condizione diventa falsa, invece usciremo. Che cos'è che dobbiamo fare quando il numero è diverso da 0? Solo un'operazione, cioè output, inserisci numero e input il numero. E poi torno su. Quando arrivo a questo rombo, devo già avere qualcosa dentro la variabile numero, vero? Perché se nella variabile numero non ho nulla, come faccio a verificare se il numero è diverso da 0 oppure no? Quindi, prima di andare a chiedermi se il numero è diverso da 0, devo andare ad effettuare un'operazione di input. Con l'annesso output, ovviamente. Cioè devo fare queste stesse operazioni anche fuori dal ciclo. Devo andare a chiedere di inserire un numero, leggere il numero e poi dopo, successivamente, posso andare a chiedermi se il numero è diverso da 0. Ora, dove torna su questa freccia? Intanto, individuiamo la condizione del ciclo, che è importante. La condizione del ciclo è questa. La condizione del ciclo è quella condizione che o fa continuare il ciclo o lo fa terminare. Quindi questa è la condizione del ciclo. La freccia torna su, l'arco, con la freccia torna sempre su, fino a prima della condizione di terminazione. Condizione del ciclo. Se la condizione del ciclo è falsa, beh, non succede più niente. Semplicemente, questa linea qua, vedete, vado qui, mi ricongiungo qua sotto. Non si collegano, eh? Però vado qui e poi metto una freccia che va direttamente al simbolo di chiusura dell'algoritmo. L'algoritmo chiedeva, e io me ne sono completamente scordata, di andare anche a stampare, adesso mi è venuto in mente leggendo questo, di andare a stampare anche il numero. Quindi, quindi dobbiamo produrre in output il numero e poi andiamo a chiederne un altro. Supponiamo che l'input sia costituito dai seguenti numeri. 15, 35, 0. Quindi, in output ci aspettiamo di vedere che cosa. Di vedere comparire i seguenti numeri. 15 e 35. Nel primo blocco viene chiesto di inserire numero. Poi viene eseguito il blocco 2. Con il blocco 2 andiamo a leggere il numero inserito dall'utente, che è questo, 15. Quindi, numero al blocco 2 vale 15. A questo punto andiamo al blocco 3 e ci chiediamo se il numero è diverso da 0. Sì, il numero è diverso da 0, perché vale 15, quindi la condizione è true. Pertanto, scendo giù dal ramo true e vado al blocco 4. Nel blocco 4 vado a produrre in output il numero, cioè 15. E poi proseguo al blocco 5. Al blocco 5, di nuovo, viene chiesto di inserire il numero. Al blocco 6 viene letto il numero, il successivo 35. Quindi, numero diventa 35 e questo qui non ha più la validità, perché viene sovrascritto, quindi è come se non ci fosse più. A questo punto si torna su. Si torna su al blocco 3. Quindi, al blocco 3 ci chiediamo, numero è diverso da 0? Andiamo a vedere quanto vale il numero. 35? Sì. Quindi la condizione è ancora true. Per cui, andiamo giù da questa parte al blocco 4. Al blocco 4 produciamo in output il numero, ossia 35. Poi passiamo al blocco 5. Nel blocco 5, di nuovo, viene chiesto di inserire il numero in input. Al blocco 6 leggiamo il numero inserito. Questa volta il numero inserito è 0. Quindi, di nuovo, questo qui, diciamo che non è più valido. Poi, torniamo su al blocco 3. Al blocco 3 ci chiediamo, il numero è diverso da 0? Questa volta non è diverso da 0, perché è 0. Quindi, la condizione restituisce false. Quindi, non andiamo più giù per questa strada dove c'è true. Andiamo dall'altra parte dove c'è false. E arriviamo all'end. Quindi, l'algoritmo, diciamo, l'esecuzione termina qui. Guardiamo in output cosa abbiamo. A parte inserisci numero, ma abbiamo 15 e 35. Esattamente come ci aspettavamo. Lo so che è banale, però non è mai... Io non do mai per scontato nulla. Perché anche se questi passaggi sembrano scontati banali, in realtà bisogna anche saperli fare. E purtroppo io mi accorgo, negli anni, che non è così sicuro che tutti sappiano fare un ragionamento come questo. Pur semplice. Non perché le persone e i miei studetti non siano capaci di ragionare. È che non è un modo di ragionare usuale questo, ma è praticamente il modo in cui funziona una macchina, non il nostro cervello. Quindi diventa più faticoso per noi. È una formalizzazione di una esecuzione di una macchina. Come se andassimo a descrivere i vari stati in cui si trova una macchina in un certo momento. Adesso vediamo come si può codificare in Java questo algoritmo. Dichiariamo le variabili. Abbiamo un'unica variabile, int numero, punte virgola. Ci sono poi queste due istruzioni. Praticamente se usiamo le finestre di dialogo diventano una sola istruzione che sono fuori dal ciclo. Quindi fuori dal ciclo vado a scrivere numero uguale integer.parseint per tutta onda payoption pane punto show eccetera Qua inizia il ciclo. Come inizia? Questo blocco che vedete in giallo deve essere tradotto così While Parola chiave while Tra le parentesi tonde la condizione numero diverso da zero Paretesi graffa aperta invio così si chiude questo è l'end del while Ok? Qua dentro quindi dentro al ciclo while tra while aperta graffa e chiusa graffa vado a scrivere tutte queste istruzioni che si trovano su questo ramo quindi tra il rombo e tra l'arco che torna su queste vanno dentro il while quindi di nuovo dovrò farmi fare intanto un output del numero quindi mi comparirà output due punti e il numero in output poi di nuovo devo andare in questo è il blocco 4 devo andare a codificare i blocchi 5 e 6 quindi è di nuovo la stessa istruzione blocchi 5 e 6 lo eseguo inserisco il numero e vabbè adesso non seguo la simulazione inserisco a caso ok mi chiede di inserire un altro numero un altro numero inserisco lo 0 e termina adesso vediamo una versione dello stesso programma però con ciclo post condizionale vediamo ricordiamoci come la struttura post condizionale prima abbiamo le istruzioni e poi abbiamo la condizione allora qui abbiamo già i blocchi si tratta di i blocchi più o meno sono gli stessi si tratta di riorganizzarli allora nel ciclo post condizionale abbiamo subito le istruzioni allora chiediamo subito di inserire un numero e lo andiamo a leggere e poi lo produciamo subito in output e poi a questo punto possiamo andare a scrivere la condizione questa numero diverso da 0 se il numero è diverso da 0 allora torniamo su dove si torna alla prima istruzione del ciclo che è quella che chiede di inserire un numero quindi qui questo se la condizione è vera true se invece la condizione è falsa terminiamo e guardate mi avanzano due istruzioni perché mi avanzano due istruzioni perché prima io dovevo andare a chiedere di inserire un numero prima di testare la condizione se no avrei avuto un errore perché il numero non aveva nessun valore quindi non potevo proprio testare la condizione invece con il ciclo post condizionale questo problema non ce l'abbiamo perché la prima operazione è proprio la lettura del numero in input dopodiché c'è subito l'output e poi posso testare se il numero è diverso da zero continuare ovviamente ci sono dei pro dei contro nell'uno e nell'altro caso blocco 1 inserisci numero blocco 2 viene inserito il numero 15 blocco 3 output del numero 15 poi blocco 4 la condizione numero diverso da zero sì allora al blocco 4 la condizione è true di conseguenza torno su torno al blocco 1 al blocco 1 vado di nuovo a chiedere di inserire il numero quindi inserisci il numero andiamo al blocco 2 e viene inserito 35 quindi questo numero qui non esiste più poi andiamo al blocco 3 il blocco 3 produce in output il numero 35 e poi al blocco 4 testiamo la condizione numero diverso da zero sì allora condizione true torniamo sopra al blocco 1 al blocco 1 di nuovo viene chiesto di inserire il numero questa volta viene inserito lo zero quindi 1 inserisci numero al blocco 2 inseriamo lo zero quindi 35 non esiste più poi andiamo al blocco 3 al blocco 3 viene prodotto in output no scusatemi sì sì al blocco 3 viene prodotto in output il numero lo zero e poi scusate ho sbagliato blocco 3 e al blocco 4 restiamo la condizione numero diverso da zero questa volta è false e quindi il programma termina differenze beh intanto qui abbiamo un output un po' di forme perché? perché è stato prodotto in output lo zero e questo non deve accadere non è corretto quindi cosa dovrei fare per far sì che non venga prodotto in output lo zero su questo ramo qui sul ramo true non ci può essere nulla e lo vedete anche da qui su questo ramo che torna su non c'è mai nulla non si possono mettere istruzioni è sufficiente andare a mettere un if prima dell'output questo diagramma di flusso ha anche un altro presente anche un altro problema cosa succede se il viene inserito solo uno zero che comunque entro dentro al ciclo leggo lo zero lo stampo ma non è corretto perché quando quindi si ripresenta lo stesso problema cioè la stampa dello zero però torniamo solo un attimo anche all'altro ciclo è vero che il ciclo precondizionale ha queste due istruzioni in più rispetto a questo vedete però però qua siamo sicuri che se il numero è zero non entreremo mai nel ciclo e il numero non verrà stampato quindi qua ci sono due istruzioni in più ma funziona correttamente questo con due istruzioni in meno fatto in maniera diversa comunque non funziona correttamente quindi dove aggiungerci un if per farlo funzionare allora a quel punto diventano per quanto riguarda diciamo il carico computazionale quasi equivalenti qua metto una condizione attenzione questa non è in giallo quindi non è una condizione del ciclo quindi userò questa convenzione inizialmente quella è giallo è la condizione del ciclo le altre sono dei semplici if non sono cicli quindi se numero è diverso da zero allora se questa condizione è vera true andiamo a produrre in output il numero altrimenti non lo produciamo in output quindi i due cicli sono equivalenti in questo senso è sempre possibile utilizzare uno o l'altro con delle piccole modifiche come vedete e andiamo a fare la simulazione anche con questo quindi vediamo cosa cambia allora al blocco 1 viene chiesto di inserire il numero bene al blocco 2 inseriamo il numero 15 poi andiamo a chiederci quindi blocco 3 il numero è diverso da zero quindi questa condizione non mi serve tanto per controllare il ciclo mi serve perché se il numero è diverso da zero lo stampo se non non lo stampo quindi controlla l'output quindi siccome la condizione numero diverso da zero è true è vera allora vado nel blocco 4 e nel blocco 4 produco in output il numero poi è 35 15 poi vado al blocco 5 qui c'è la condizione del ciclo il numero diverso da zero è uguale alla precedente ma ha un'altra funzione questa condizione mi permette di capire se posso tornare su a ripetere le istruzioni del ciclo quindi se devo ciclare oppure se devo uscire dal ciclo numero diverso da zero vero true quindi torno su all'istruzione al blocco 1 blocco 1 di nuovo viene chiesto di inserire un numero inserisco il secondo numero che è 35 quindi al numero numero di red è 35 visto che l'ho fatto di fatto lì quindi anche il 15 non è più valido il nuovo valore di numero è 35 siamo al blocco 2 passiamo al blocco 3 allora numero è diverso da zero certo è diverso da zero true quindi seguo il ramo true e vado a produrre in output il numero blocco 4 vado a mettere in output 35 poi c'è di nuovo la condizione quella in giallo condizione di terminazione del ciclo numero diverso da zero non è ancora diverso da zero quindi la condizione è true non è ancora uguale a zero traparlo ogni tanto torno su al blocco 1 nel blocco 1 di nuovo chiedo di inserire un numero e questa volta viene inserito lo zero al blocco 1 in output inserisci numero al blocco 2 leggiamo il numero che è zero al blocco 3 c'è la condizione numero diverso da zero questa volta la condizione è false false quindi non vado ad eseguire il blocco 4 ma vado passo da false dove non faccio niente quindi non produco in output il numero pertanto vado subito al blocco 5 senza passare dal blocco 4 il numero questa volta non è più diverso da zero ma è uguale a zero e quindi il programma termina la conseguenza qual è? che senza questo if avevo prodotto in output i seguenti numeri 15 35 0 con l'if in output produco solo 15 35 perché quando il numero è zero non lo vado a produrre in output perché appunto non ha senso produrre in output allora faccio la codifica Java così vi metto anche questo dentro al documento vi chiedo la variabile numero e poi blocchi 1 e 2 e ho l'acquisizione in input del numero adesso vediamo con il blocco 3 cosa devo fare il blocco 3 ormai sempre spertissimi c'è un if if apertatone numero diverso da zero quindi questo è il blocco 4 anche qui quindi produco in output il numero e qua si chiude l'if ok ora ho la condizione allora attenzione tutte queste istruzioni vedete sono tutte dentro al ciclo perché questa linea che torna su le racchiude tutte queste istruzioni vanno inserite in un blocco do wine quindi dove inizia la freccia quindi prima di questa istruzione questi blocchi 1 e 2 devo aggiungere un do una parentesi graffa aperta adesso qua me la chiude io la tolgo da qui perché la parentesi graffa chiusa va prima di questa condizione quindi esattamente dopo l'end dell'if posso andare a mettere il codice indentarlo correttamente così mi accorgo se per caso mancano delle parentesi no le parentesi non mancano questa chiude questa cioè questa chiude la prima questa mi va a chiudere il do questa mi chiude il main e questa mi chiude la classe perché mi dà errore? beh perché questo ciclo non è stato ancora scritto per intero manca la condizione la condizione si mette qua a fianco while aperta tonda numero diverso da zero ed è l'unico caso in cui dopo una condizione abbiamo un punto in virgola perché termina il do while quindi questa è tutta un'unica istruzione il ciclo do while possiamo andare ad eseguirlo e vedrete che non cambia nulla rispetto prima ok due ok sei ok zero termina un'unica istruzione